buon pomeriggio e buongiorno a tutti queste due parti queste due regioni del pianeta io inizio subito la mia presentazione con questa trasparenza della ipcc che sarebbe massimo autorità scientifica in materia di cambiamento climatico che nel 2021 ha pubblicato il primo volume del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici questo rapporto dice che sono sempre più evidenti e sempre più certe le relazioni fra le attività umane e il riscaldamento globale e che questo riscaldamento a scala globale che è stato valutato in circa 1,1 gradi centigradi questo rapporto dice ancora una volta che le attività umane l'impronta delle attività umane molto molto evidente su questo riscaldamento e invece un altro rapporto indipendente del global carbon project dice che nel 2021 sono state emesse in atmosfera dalla combustione delle fonti fossili di energia e dalla produzione di cemento circa 36 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente c'è stata una risalita rispetto all'anno precedente quando la pandemia ha ridotto in maniera significativa le emissioni rispetto al 2019 a destra invece vedete che c'è una curva con una diversa scala delle emissioni dovute invece alla land use change alla trasformazione di uso del suolo questa stima è in ribasso rispetto agli anni precedenti comunque si tratta di una cifra significativa e questo rapporto insieme a quello della ipcc dicono che circa il 14 per cento delle emissioni globali di gas di serra è dovuta alla trasformazione di uso del suolo quindi questo è già un fatto significativo che serve per costruire lo scenario all'interno del quale andiamo a lavorare quindi l'agricoltura dice questo rapporto ancora è anche un rapporto del 2019 sempre della ipcc è un significativo contributore del climate change uno studio di una serie di esperti della fao food and agriculture organization dice che circa 10 miliardi di tonnellate di anidride carbonica equivalente sono emesse dal settore agricolo nel suo complesso e una parte significativa di questa è legata alla trasformazione di uso del suolo e comunque tutto quello che succede on farm è abbastanza significativo ma è ancora più significativo il contributo del sistema agroalimentare nel suo complesso che contribuisce per circa un terzo dico un terzo alle emissioni globali di anidride carbonica equivalente ma il climate change non è solamente come dire un subì a subire l'effetto dell'agricoltura e il climate change che ad un certo punto è diventato anche uno dei uno degli fattori che agisce sulla sulla ricoltura producendo degli impatti molto molto significativi e qui ho riportato uno studio abbastanza recente del duemila e ventuno che dice che i cambiamenti climatici hanno rallentato la crescita della produttività in agricoltura quindi facendo perdere tutti i benefici che sono derivati dal in termini di innovazione tecnologica e miglioramento della capacità produttiva insomma il cambiamento climatico agisce in maniera negativa sulla produttività dei sistemi agricoli allora c'è bisogno di abbassare il l'attuale livello delle emissioni secondo il l'accordo di parigi per stare a di sotto di due gradi centigradi di riscaldamento dobbiamo dimezzare l'attuale livello di emissioni entro il duemila e per arrivare poi al duemila e sessanta ad avere un net zero emissions quindi un emissioni un livello di emissioni pari a zero considerando naturalmente anche il carbon sink che deriva dalle attività territoriali quindi agricoltura servicoltura gestione delle aree naturali e seminaturali e quindi questo già da un'idea del fatto che l'agricoltura e il settore forestale sono importanti non solamente in termini di contribuire all'effetto serra ma nel senso che sono anche un alleato alle nostre lotte ai nostri sforzi che facciamo per mitigare e adattarci al cambiamento climatico c'è uno studio molto importante di griscom un americano che nel duemila e diciannove ha prodotto uno studio in cui ha cercato di stimare qual è il contributo che le attività forestali ma anche le attività sull'agricoltura sulle sulle praterie e sui pascoli possono dare al raggiungimento di questi obiettivi complessivamente questo studio dice che è possibile da qui al duemila trenta attivare una serie di progetti attività azioni interventi che possono contribuire per circa dieci miliardi di tonnellate di anidride carbonica attraverso quindi queste attività che riguardano le foreste l'agricoltura ma anche le aree umide la cosa interessante di queste opzioni di queste strategie e che portano un beneficio non solamente in termini di mitigazione adattamento al cambiamento climatico ma fanno bene anche alla qualità dell'aria alla alle risorse idriche alle qualità del suolo e in modo particolare alla biodiversità quindi queste attività sono quattro volte vincenti se ben concettualizzate e se ben implementate tra l'altro ci sono anche diversi studi che sono solti di recente che dicono che l'agricoltura è uno dei principali fattori della alterazione di diversi processi biogeofisici quindi non solamente sui cambiamenti climatici ma l'agricoltura agisce sulla biodiversità sull'alterazione del ciclo dell'azote del fosforo e su altri principali squilibri ambientali quindi l'agricoltura è un target molto importante nelle politiche ambientali questo non significa che l'agricoltura viene demonizzata questa nuova tendenza indica l'agricoltura come un alleato uno strumento per combattere i principali problemi ambientali e fra l'iniziativa a scala globale per combattere uno dei più importanti problemi ecologici anzi socio ecologici e quello della per la biodiversità questa è un'immagine presa dal giornale in inglese con questo questo panorama dei negoziatori tecnico scientifici che di una sessione che si è svolta a marzo a ginevra anzi domenica scorsa se ne è conclusa un'altra a nairobi cercando di mettere su un accordo globale per la conservazione della biodiversità nel 2021 è stato prodotto un rapporto del unep united nations environmental program che dice che abbiamo bisogno di fermare la perdita attuale di biodiversità che ormai viaggia a ritmi molto molto allarmanti ma che questa conversione questa arresto e inversione di tendenza di perdita di biodiversità può essere fatta non attraverso una soluzione ma attraverso un mix di soluzioni che prevedono prima di tutto la protezione e il ripristino degli habitat naturali e poi la lotta al cambiamento climatico e la riduzione dei principali effetti sulla sulla perdita di biodiversità una produzione sostenibile a cominciare da quella agricola per finire naturalmente tutti gli altri settori industriali e poi c'è bisogno anche di una trasformazione dei nostri modelli di consumo del modo in cui quindi consumiamo i materiali oltre che di come li eh produciamo ehm una cosa interessante che lega insieme la conservazione della biodiversità con la lotta al cambiamento climatico è che il Glasgow Climate Pact che è stato eh approvato nel corso dell'ultima conferenza delle parti sul cambiamento climatico nel duemila e ventuno dice che le due crisi globali sono interconnesse interdipendenti fra di loro questo nel preambolo e poi nel paragrafo 21 questo eh patto questo accordo sottolinea l'importanza di proteggere conservare e ripristinare la natura e gli ecosistemi per mitigare e adattarsi al cambiamento climatico quindi questo è un salto di paradigma importantissimo perché in precedenza questi due problemi socio ecologici erano stati affrontati in maniera indipendente no secondo un silo approach quindi adesso invece si capisce la necessità di affrontare in maniera congiunta questi due problemi e questa tendenza ad affrontarli contemporaneamente in maniera interdipendente e in qualche modo ha portato a mettere insieme le due principali istituzioni scientifiche internazionali IPCC e IPBES che eh nel duemila e ventuno ha prodotto un rapporto che consiglio di leggere ehm insomma è un lavoro eccellente che dice in sostanza che ci sono delle attività che questo rapporto chiama Nature Based Solutions altri chiamano Ecosystem Based Approaches attraverso le quali è possibile lottare contro il cambiamento climatico e e difendere la natura al tempo stesso ci sono quattro categorie di interventi che riguardano la protezione il ripristino la gestione e poi anche la creazione di nuove attività fra cui quella per esempio di impiegare habitat nuovi ed emergenti il riferimento è per esempio alla Groenlandia o ad altri paesi che ehm insomma possono diventare molto più fertili rispetto al passato a causa del problema del cambiamento climatico quindi si tratta di sfruttare in maniera positiva questa alterazione per raggiungere entrambi gli obiettivi di lotto al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità e passiamo quindi al nello specifico per anche per creare un po' il background per l'intervento del collega dottor Trotta per dire che ehm l'Italia come tutti gli altri paesi post-industriali confidano poco sull'agricoltura per la produzione del prodotto interno lordo in Italia appena il 2% del prodotto interno lordo è eh legato all'agricoltura questo non significa naturalmente che il settore agricolo sia poco importante perché comunque eh ci sono circa 717.000 imprese ancora registrate come imprese agricole però c'è una tendenza al declino come vedete questa 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 cifra che è cerchiata ehm evidenziata in rosso che c'è stata una variazione molto significativa rispetto all'anno precedente quindi c'è una tendenza al declino sia del numero delle aziende ma anche naturalmente della superficie agricola utilizzata e questo grafico penso che sia molto eloquente perché a sinistra si vede l'evoluzione della superficie agricola utilizzata dal 1982 ai insomma giorni nostri fino a qualche decennio fa simmetricamente vediamo invece una crescita continua della superficie forestale quindi i campi che sono abbandonati per effetto di fattori economici sociali eh insomma adesso non è il caso di discutere noi abbiamo ehm circa raddoppiato dagli anni cinquanta dal secondo dopoguerra ad oggi la superficie forestale che eh adesso è diventata maggiore della superficie agricola quindi noi siamo un paese forestale nel senso che circa un terzo del territorio nazionale è ora coperto da foresti. Allora eh questa è un'altra grafica che dice che l'Italia insieme alla Spagna e eh alla Grecia e alcuni ehm paesi baltici sono i paesi che sono maggiormente interessati dalla eh trasformazione dell'uso del territorio da agricolo a ehm forestale. Questo naturalmente crea anche una serie di problemi non non c'è solo l'aspetto positivo di naturalizzazione del territorio ma nonostante tutto questo però noi continuiamo ad avere problemi anche con l'agricoltura e quindi noi cerchiamo attraverso ehm insomma un capitolo agricoltura di un annuario che il mio istituto ISPRA produce per dare un'idea no della della delle condizioni ambientali del nostro paese l'agricoltura presenta degli aspetti che sono positivi altri negativi ehm come qui vedete una panoramica, un quadro sinottico dei principali indicatori che noi utilizziamo vedete le faccine insomma negative eh lineari e invece positive e uno ehm degli aspetti negativi è legato per esempio alla moria di api che in gran parte è dovuta all'uso di prodotti fitosanitari ma non solo e noi sappiamo adesso quanto è importante la salvaguardia di questi impollinatori per ehm per l'ambiente per sé ma anche per la salute dell'agricoltura perché l'agricoltura dipende molto soprattutto quella italiana per ehm dalla presenza di impollinatori altro effetto negativo è quello dello spreco alimentare e poi abbiamo invece alcuni segnali positivi che riguardano la certificazione eh agricola biologica, la certificazione di gestione forestale sostenibile e il contributo delle foreste nazionali al ciclo globale del carbone perché aumentando la superficie forestale aumenta anche la capacità fissativa, il sequestro del carbonio, il carbon sink che aiuta il nostro paese a compensare le emissioni che vengono da altri settori produttivi e che quindi possono essere utilizzati per i bilanci nazionali. e quindi questo è un po' il quadro di introduzione dopodiché vedete che questa è una mh l'andamento ehm a scala nazionale della evoluzione della della superficie agricola che viene utilizzata secondo un regolamento europeo comunitario che mh governa il modo in cui deve essere fatta l'agricoltura biologica e vedete che c'è a parte qualche stop intorno agli anni dal 2000 al 2010 una crescita continua costante della superficie agricola utilizzata. L'Italia è il primo paese per numero di eh imprese agricole biologiche e il secondo dopo la Spagna per estensione ehm e quindi possiamo senz'altro dire ma poi il dottor Trotta si soffermerà più estensivamente su questi dati possiamo dire che per l'Italia l'agricoltura biologica è una storia di successo. Abbiamo sviluppato una grande capacità, un settore produttivo molto molto maturo su questo sia in termini di produzione ma anche di controlli e poi anche di valorizzazione eh dal punto di vista commerciale di questi prodotti. Insomma la produzione bio è una bella realtà in Italia e qui in Ispra abbiamo cercato anche di valutare qual è la capacità fissativa delle eh dei suoli agricoli biologici in Italia. Quindi qui è una stima su quello che è successo dal mila novecentonovanta al duemila e diciassette. Come vedete sono circa eh zero sette milioni di tonnellate di carbonio in questo caso che è stato fissato dai suoli agricoli biologici e questo invece ehm è quello che dovrà avvenire se l'Italia raggiungerà i target della Commissione europea da raggiungere entro il duemila e trenta. C'è una strategia europea per la biodiversità che è anche però un target della strategia per l'agricoltura che si chiama Farm to Fork che dice che eh l'Unione Europea dovrà raggiungere il venticinque per cento della superficie agricola ehm coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica. Quindi noi avremo bisogno di aumentare di circa novantamila ettari in media ogni anno per raggiungere questo obiettivo di fare il venticinque per cento almeno nel nostro paese. Questo è un target eh abbastanza ambizioso però insomma è un risultato purché ambizioso anche molto ehm possibile e realistico e anche in questo caso abbiamo cercato di stimare quale sarebbe il contributo in termini di eh sequestra del carbonio ehm della dell'agricoltura biologica perché mh ci sono dei vantaggi che sono in dubbi come dicono molti studi indipendenti meta-analisi che l'agricoltura biologica produce effetti positivi sulla biodiversità sia floristica sia faunistica no? Anche se ci sono insomma qualche dato discordante ma ci sono dati molto molto significativi sull'aumento della biodiversità nei suoli grazie all'agricoltura biologica e mh naturalmente rimane il problema dell'agricoltura biologica rispetto alla produttività per unità di superficie. Noi vedete questa ehm barra eh marrone production per unit area che dice che rispetto all'agricoltura convenzionale l'agricoltura biologica sta al di sotto dello standard dell'agricoltura convenzionale ma questo è ovvio e spesso almeno per un paese come il nostro e paesi eh appunto eh post industriali non è il nostro obiettivo in termini di sostenibilità raggiungere no? Le rese per ettaro che vengono raggiunte dell'agricoltura convenzionale in alcune regioni dell'Italia che poi sarebbe quella mia e anche del dottor Trotta la Puglia ormai raggiungiamo mille quintali ad ettaro di pomodoro per ettaro di superficie non è questo quello che noi vogliamo perché sappiamo che questo avviene a scapito della qualità dei suoli oltre che insomma di altri elementi del settore agricolo e quindi eh c'è bisogno però ehm oggettivamente dobbiamo ammetterlo di aumentare per il settore biologico questo gap yield gap come lo dice come lo chiama la FAO no? E quindi perché abbiamo bisogno di raggiungere anche l'obiettivo eh a scala globale di mettere fine alla fame nel mondo entro il il duemila e trenta quindi ehm bisogna tener conto di questo yield gap dall'altro eh bisogna anche dire qui ho riportato uno studio eh recente di un gruppo di ricercatori di Wageningen in Olanda che dice che questo yield gap fra agricoltura biologica che è relativamente recente no? È nata insomma negli anni eh ottanta si è consolidata negli anni novanta e questo gap si sta riducendo grazie soprattutto alla eh condivisione delle esperienze fra gli agricoltori biologici e che questo gap potrebbe essere colmato almeno in parte se ci fosse un contributo significativo da parte della ricerca scientifica e quindi questo è tra l'altro un primo suggerimento su potenziali forme di collaborazione in questo settore no? Qual è il contributo che la ricerca scientifica e la condivisione della ricerca scientifica può dare in termini prima di tutto di yield gap reduction e poi anche di eh insomma di creazione di di mercati di opportunità eh per eh entrambi i paesi sul settore eh dell'agricoltura biologica che è in forte espansione e questa era la mia ultima trasparenza davvero tante grazie per questa opportunità ehm eh grazie e lascio la linea. Grazie. Grazie.